Facciamo il nostro streamwalking e vedete come abbiamo visto la volta scorsa che abbiamo i riferimenti sulla patelletta ma abbiamo anche queste linee, queste microlinee che mi permettono di fare un preciso streamwalking senza andare ad attaccare la patelletta alla corda. Quindi io conto 2, 4, 6 e vedo sulla linea dove mi devo posizionare.